Purtroppo paghiamo, il primo errore che facciamo prendiamo gol, ma nemmeno errore si può chiamare perché su un rimpallo purtroppo la palla è rimasta lì e ce ne ha fatto male. Secondo, io sono parecchio deluso da me stesso perché mi sono fatto scappare Previtali, è stato più rapido di me e quindi poi lì diventa dura perché sotto di due gol deve andare non al doppio ma al tribù degli altri per cercare di pareggiare. Abbiamo accorciato la distanza però non sempre, purtroppo, ce la fai ad ammontare il pari. Ecco Maurizio, come non farsi abbattere dallo scoramento che presumiamo fosse imperante negli spogliatori? Ma guarda, adesso è dura, non ce la faccio nemmeno parlare, però ripeto, nella vita quando si tocca il fondo bisogna risalire, più in giù di così non si può andare. Noi dobbiamo cercare di lavorare più di quanto stiamo facendo senza cercare il colpevole, perché non ci sono colpevole. Questa è una squadra con un allenatore che lavora bene durante la settimana e adesso deve cercare di lavorare il doppio di quanto sta facendo per cercare di raggiungere i risultati importanti. Grazie.